che bussava. In una notte tetra meditavo sulla morte di mia figlia e mi scosse all'improvviso una certezza che bussava alla porta della stanza. Avevo chiesto alla cultura di lenire il mio dolore, ma il ricordo di mia figlia continuava come un brivido tagliente. Allora mi alzai dal letto e aprì la porta alla certezza che mi disse «Queste notti sono la medicina di cui hai bisogno». Il silenzio nella stanza era assoluto e l'aria muta non dava segni. Udì chiara e forte la voce di mia figlia. Rientrai nel letto con l'anima in fiamme. «Signora certezza» dissi «Lei stanotte mi ha salvato». «Colica» dissi «Lei stanotte». 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 «Lei stanotte».